L'Italia non è e probabilmente non sarà nel tempo visibile una grande potenza, ma c'è uno spazio nel quale l'Italia può giocare un ruolo decisivo, è lo spazio dell'Eurozona, ma più specificamente è lo spazio del triangolo con Germania e Francia. A questo triangolo, triangolo sì l'abbiamo chiamato evocando un verso di Renato Zero, è dedicato il volume appena uscito della rivista Limes che conclude provvisoriamente una trilogia italiana e la conclude scandagliando proprio allo spazio del nostro rapporto con Francia e Germania. Perché è importante oggi? Perché è in corso, in modo molto evidente, una competizione che vede francesi e italiani più o meno allineati contro i tedeschi per evitare che una volta risolta, speriamo rapidamente, l'emergenza epidemica si torni al regime economico precedente, cioè una politica fiscale e monetaria fondamentalmente basata su criteri restrittivi di austerità e non invece, come è accaduto quasi miracolosamente in seguito al Covid, in senso espansivo. Ora, su questa battaglia in realtà si giocano altri dossier molto importanti e quindi scandagliare questo triangolo significa anche risalire alle radici storiche del nostro rapporto con Francia e Germania. Un elemento su cui vorrei attirare la vostra attenzione è il fatto che l'Italia costituisce con la Francia e una parte della Germania direi l'Occidente europeo in senso storico, almeno dall'impero romano in avanti, e l'altro è che in questa partita per noi decisiva gli Stati Uniti giocano un ruolo fondamentale e lo giocano a nostro favore.